primo contatto 12 21 e 18 secondo contatto 12 21 e 22 terzo contatto 12 21 e 30 invece di 18 forse era 15 invece di 22 era 21 e abbiamo la possibilità di vedere il foro stenopeico riflesso dal vetro del passaggio che non è per niente comodo per osservare il passaggio al meridiano possiamo misurare solo il lembo meridionale del sole sta giungendo al meridiano 12 22 e 31 30 la straggio del sole del 2 marzo 2019 aspettiamo le due uscite tocca a 12 23 e 30 lascia la meridiana 12 23 e 37 il centro e lascia il tutto a 12 23 e 43 e mezzo alla prossima Grazie.